Grande Fratello VIP 2023, sarebbero previsti quattro ex come ospiti, da Ivana Mrazova a Diamante. Sarebbero previsti quattro ex fidanzati come ospiti all'interno della casa del Grande Fratello VIP 2023. E questo l'ultimo retroscena legato al cast del reality show condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5. Dalla prossima settimana il reality show tornerà alla doppia puntata settimanale. E per ravvivare gli ascolti e tenere alta l'attenzione gli autori avrebbero deciso di arruolare all'interno della casa di Cinecittà quattro ex fidanzati di alcuni degli attuali protagonisti di questa edizione. Una di queste Ivana Mrazova, nota al pubblico del GFV per la sua storia d'amore con Luca Onestini. L'appuntamento con il GFV 2023 tornerà alla doppia puntata serale su Canale 5. Da febbraio il reality show sarà in onda sia di lunedì che di giovedì sera, i colpi di scena non mancheranno e secondo quanto riportato in queste ore sul web. Per tenere alta l'attenzione del pubblico si punterà anche su nuovi ingressi. Al momento sarebbe previsto l'arrivo in casa di quattro ex fidanzati di alcuni dei protagonisti di questa settima edizione. Pronti a mettersi in gioco e a creare nuove dinamiche. Uno di questi sarebbe Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. Comparso nel corso delle prime puntate di questa settima edizione quando ha cercato fino alla fine di provare a riconquistare il cuore della concorrente. Attualmente, però, Antonella è fidanzata con Edoardo Donnamaria, ecco perché l'arrivo di Gianluca come ospite ha scatenato un po' di polemiche in rete e tra i detrattori di questa scelta spicca anche il padre della ragazza stessa. Si fa entrare in casa uno che, oltre a diffamarmi sui sociali in varie interviste, è chiaramente ossessionato da lei o usa tecniche di approccio mentale descritte nel suo libro. Spero che la notizia non sia vera, ha sbottato il papà di Antonella sui social commentando il papabile ingresso dell'ex fidanzato di sua figlia nella casa del GF VIP. Tra i nuovi ingressi, inoltre, è previsto anche quello di Ivana Mrazzuva, anche lei in nota al pubblico delle reality show Mediaset per la storia d'amore con Luca Onestini. Nata proprio sotto i riflettori di una delle passate edizioni del GF VIP. Le porte della casa di Cinecittà dovrebbero accogliere anche Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro. Sarebbe in trattativa anche Matteo Diamante, ex di Nikita, volto noto dell'isola dei famosi. In passato protagonista di una storia d'amore con Nikita Pelezon. 4 twin Se le intru' chaque酒 e zijtiti, long like me! Sper che la notizia non avuta il nasa. Ela jucendrul che per l'dere di Alistrani che in altri Fernandini Lapera ho potzeichò il ne accorglei di Diti Sfina che l'obriere ho rotteno. Hai mei! Hai mei! Hai mei! Hai mei! N-au avut racc Kollege Tire Suss, Tire Suss, Tire Suss, Tire Suss, Poteo Sassà.